Brabilla e Branca Parte Branca E gol! Gol di Branca al ventitresimo del pericolo Ancora il pericoloso Yon Va Yon è un gran tiratore, trova spazio, tiro, ribattuta la sua conclusione Ma c'è ancora questo nuovo tiro E il gol realizzato da Ki Jung Lee Uno, due All'intercettata arriva di gran carriera Pecchia Si accende ora una mischia Tocca anche Morfeo Disimpegno avventato dai coreani E possibilità per Ametrano di entrare in area Attenzione l'errore! E il gol di Branca Ancora Branca porta in vantaggio Porta in vantaggio la nostra nazionale olimpica al trentaseiesimo Grazie! Grazie!